Utile, con il giusto rapporto qualità-prezzo e che sia nella lista dei desideri di chi lo deve ricevere. Il regalo di Natale quest'anno si fa così. L'abbecedario dell'acquisto lo ha formulato la Coffcommercio Roma. A 12 giorni dal Natale, secondo l'Associazione di Commercianti, le famiglie romane spenderanno in media 250 euro per i regali. Quest'anno gli acquisti avverranno con maggiore attenzione rispetto al passato, visto che la predisposizione al risparmio interessa anche i più benestanti. Ma a tavola alla qualità non si rinuncerà. In questo caso, per sei persone, la spesa media, sempre secondo la Coffcommercio, sarà di 400 euro. Le feste riusciranno a sollevare solo in parte la crisi del commercio. Negli ultimi anni il calo della domanda è stato progressivo, dovuto a disoccupazione e incertezza sul futuro per la maggior parte. Per questo, per Osario Cerra, presidente di Coffcommercio, la strada del rilancio deve passare per politiche di defiscalizzazione e sostegno a reddito.